L'amianto è per definizione un minerale presente in natura e si ritrova in molti tipi di rocce, soprattutto nelle cosiddette pietre verdi. Sull'arco alpino occidentale sono presenti in particolare il crisotido, la tremolite e la tinolite, che sono sicuramente gli amianti più diffusi, in modo particolare il crisotido e la tremolite. Un minerale per il quale è dimostrata con assoluta certezza che il cui utilizzo sia responsabile di patologie amianto correlate, tra cui il mesotelioma. Non esiste una dose soglia di sicurezza, cioè non abbiamo una dose per la quale si può dire che a queste dosi l'amianto non determina alcuna patologia. Il rischio non si configura col numero di fibre. È chiaro che maggiore l'esposizione, maggiore sarà la probabilità nel determinismo della patologia. Maggiore il tempo di esposizione, maggiore sarà la probabilità nel determinismo della patologia. Ma non vi è una dose soglia, cioè non vi è una dose al di sotto della quale noi siamo certi che non vi sia rischio, quindi probabilità nel determinismo del mesotelioma. In Italia l'incidenza del mesotelioma pleurico nel 2008, intendendosi per incidenza il numero di nuovi casi per anno, è pari a 3,6 casi su 100.000 abitanti negli uomini ed 1,12 casi su una popolazione di 100.000 abitanti per le donne. Se noi andiamo a dimensionare rispetto ad altre forme neoplastiche, certamente non sono elevati. Il problema è che a fronte di ciò è una patologia sicuramente in incremento ed è una patologia che ha dei focus, cioè delle aree in cui, come Casale Monferrato, come Broni, come Bari, aree in cui il numero dei casi è elevatissimo rispetto ad altre aree. Casale Monferrato è un sito di interesse nazionale, cioè per decreto sono stati individuati sul territorio nazionale dei siti dove erano presenti particolari criticità ambientali, particolari situazioni di inquinamento ambientale. Uno di questi è stato l'ACNA di Cengio, che è stata bonificata, come ormai sappiamo, si è arrivato l'ACNA di Cengio alla Valle Bormida. In Piemonte eravamo interessati, siamo tuttora interessati, anche dal sito di interesse nazionale della Miantifera di Balangiero e di quello di Casale Monferrato. A differenza degli altri due che ho citato, cioè l'ACNA di Cengio e la Miantifera di Balangiero, il problema di Casale Monferrato è una contaminazione diffusa sul territorio limitata non solo allo stabilimento ma ad un'area molto vasta che misura 739 km2, interessa ben 48 comuni, di cui 45 in provincia di Alessandria, due in provincia di Vercelli e uno in provincia di Asti. Si passa negli anni 90-2008 a un'incidenza solo per quanto attiene la città di Casale, il comune di Casale ha 48,7 su 100 mila abitanti per quanto attiene al solo sesso maschile. Il sesso femminile è colpito per il 28,8 su 100 mila abitanti. Chi si è ammalato sono soggetti, nella maggior parte dei casi, nella stragrande maggioranza, vi è una correlazione epidemiologica fra soggetti che lavoravano all'interno di questa industria, soggetti che vivevano in posizioni prossime, quindi in luoghi prossimi all'industria, soggetti parenti conviventi dei lavoratori, ovvero soggetti che in alcuni casi avevano materiale in matrice particolarmente friabile, quindi che disperde fibre, all'interno delle proprie unità abitative, ovvero delle pertinenze delle case. Qui abbiamo una diffusione ambientale di questa contaminazione d'amianto sicuramente molto importante ed è legata la contaminazione ambientale alla diffusione sostanzialmente del polverino, il polverino che era uno scarto di lavorazione che veniva regalato per alcune proprietà che arriva di isolare termicamente gli ambienti se veniva posto nei sottotetti, di essere un ottimo fondo per i cortili, per i viali, per le strade, e quindi proprio per queste sue caratteristiche è stato regalato e diffuso largamente nel territorio della ex USL 76 che adesso si identifica con il territorio del sito di interesse nazionale. Bisogna pensare oggi sia all'attività di ricerca per curare i nuovi casi, ma anche pensare alla prevenzione perché ad oggi vi sono dei siti a rischio per i quali risulta necessario attuare interventi di bonifica. Le bonifiche di questi polverini sono cominciate già da diversi anni e molti sono stati bonificati, però ciò nonostante continuano ad emergere situazioni in cui questi polverini vengono scoperti e denunciati. Quindi esattamente, addirittura oserei dire che è possibile sempre scoprire la presenza di questi materiali perché di molti si è anche persa memoria, perché magari erano in case di persone anziane che poi sono mancate, i discendenti magari non abitano in zona, di quella casa non se ne sono curati più in modo particolare, quindi può succedere che ci siano polverini diffusi in questa zona di cui ancora non c'è traccia. Sta di fatto che comunque le bonifiche sono ancora in corso e ce ne sono un buon numero ancora da bonificare di questi polverini sia come sottotetti, sia come battuti, cioè come materiali in aree esterne, soprattutto nei cortili. Bisogna garantire un'azione metodica di sensibilizzazione della popolazione, bisogna assicurare la prevenzione, bisogna assicurare un modello organizzativo che funzioni con i fondi dovuti ovviamente e fare ricerca secondo una metodologia scientifica, ripeto, validata a livello internazionale. Così si potrà aggiungere a ottenere dei risultati positivi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'ILO, che è un altro ente, hanno con rapporti specifici sensibilizzato proprio rispetto al problema dell'utilizzo dell'amianto, il problema delle patologie amianto correlate nei lavoratori che operano in questo settore. La risonanza che ha avuto la situazione di Casale Monferrato ha sensibilizzato sicuramente sul problema anche popolazioni che non abitano in questa zona. Infatti noi riceviamo continuamente richieste sia da tutto il territorio regionale e per i contatti che posso avere io con altre strutture analoghe in altre regioni e devo dire che il problema è sentito ovunque, non è solo sentito. Qui ovviamente c'è una situazione particolarmente pesante per il vissuto delle persone, però il problema è sentito ovunque, direi che ormai l'amianto è sulla bocca di tutti.